Piff, arrivi a Gallarate con un romanzo, sei un narratore, hai fatto tanta tv, hai fatto cinema, alla fin fine tu racconti, la tua caratteristica è questa. Sì, infatti, l'importante è avere qualcosa da dire, poi come lo dici, poi deciderà la gente qual è il mezzo di comunicazione migliore per te, poi alla fine è più meritocratico e più di quanto non si possa pensare questo lavoro. Che messaggio ci porti? Ma qui per la prima volta non parlo di mafia, non parlo di algoritmo, non c'è il nemico, alla fine è un romanzo dove ho messo tutta una serie di riflessioni, mie riflessioni sull'amore, quindi il nemico sono io, o comunque il protagonista è il nemico di se stesso. È un tema piuttosto profondo, piuttosto ostico. Sì, ma all'inizio ho paura di fare una cosa un po' troppo leggera, poi insomma c'ho sempre, sono molto bigotto io, c'ho sempre il ditino puntato, un po' la morale la faccio, però mi sembra strano anche a me stesso parlare di amore, di fare delle riflessioni, poi io non sono un romantico, almeno sono diversamente romantico, però ho fatto l'altro giorno una presentazione a Palermo e c'era anche mia madre in prima fila, devo dire è stato imbalazzante, parlai d'amore davanti a tua madre. Buon racconto. Grazie.